Per il 2024 il Comune di Pesero torna a proporre il fondo anticrisi e a destinarlo al pagamento della Tari per famiglie con Isee fino a 16.000 euro. Tassa comunale su rifiuti che verrebbe infatti dimezzata per le famiglie beneficiarie che se rientranti nei requisiti potranno pagare le prime due rate della Tari per poi vedere la terza e la quarta pagate direttamente dal Comune. Un fondo anticrisi aumentato da 200 a 300.000 euro dopo l'ultima variazione di bilancio in un accordo siglato con le rappresentanze sindacali di CGL Cisle Will. Andiamo ad implementare quello che avevamo già stanziato in bilancio di previsione 200.000 euro andiamo ad incrementare con ulteriori 100.000 quindi per un totale di 300.000 che utilizzeremo per il fondo Tari ovvero a disposizione delle famiglie che hanno più bisogno per pagare le bollette. Bollette che verranno col bando pagate dal Comune per il 50% quindi due bollette su quattro e cercando di replicare ovviamente in misura un po' ridotta rispetto a quello che avevamo già fatto nel 2022 dove avevamo messo a disposizione 470.000 euro. Come ogni anno il fondo e i soldi e le risorse dove investire è stato deciso da un percorso fatto con i sindacati quindi insieme abbiamo valutato la situazione sul nostro territorio e là dove dovevamo mettere le risorse le abbiamo valutato insieme ai sindacati. Quest'anno l'operazione è l'operazione sulla Tari e abbiamo deciso di estendere il contributo per un ISEE cittadini che hanno un ISEE di 16.000. Il bando sarà impostato come quello più o meno dell'anno scorso partendo da metà agosto quindi le risorse sono 300.000 euro il bando è per famiglie che hanno un ISEE di 16.000 e abbiamo fatto una valutazione che andremo a intercettare quasi 2.000 famiglie quindi 2.000 persone. Quindi è una risorsa che mettiamo sulla Tari perché abbiamo valutato che lì c'è una richiesta, c'è un bisogno e l'operazione che avevamo fatto due anni fa era stata molto apprezzata.